Smart Building, approcci innovativi alla riqualificazione edilizia. Questo il titolo del workshop organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino in collaborazione con Action Group, svoltosi giovedì 5 giugno 2014 presso il Centro Congressi Torino Incontra. L'evento è accreditato dal Consiglio Nazionale degli Architetti per sei crediti formativi professionali a valere per il triennio 2014-2016. Oggi tratteremo di un articolo di cui noi siamo importatori e distributori per l'Italia, il marchio Inventer, un prodotto tedesco di ventilazione meccanica puntuale degli edifici. Una presentazione rapida della Casa di Terra, ci presenti la sua azienda? L'azienda è nata nel 1992 proprio con l'obiettivo di occuparsi della riqualificazione energetica degli edifici con materiali ecosostenibili. Perciò noi trattiamo dagli isolanti naturali come la cellulosa di cui siamo importatori e distributori oppure sistemi di ventilazione e altri sistemi di riqualificazione a secco. Noi abbiamo uno staff di tecnici che si muovono sul territorio, sono competenti sia in termini tecnico di fisica tecnica e fisica della costruzione, facciamo audito energetico dell'edificio perciò andiamo a individuare quali sono i problemi che questo edificio ha e poi quale sono le soluzioni da adottare per riqualificare l'edificio stesso. Il fatto di avere una platea di professionisti per noi è molto importante perché noi vendiamo dei prodotti di alta qualità che devono essere spiegati ai professionisti, non vendiamo caffè o prodotti di consumo, largo consumo, prodotti molto specifici e oggi gli architetti professionisti hanno bisogno di avere delle informazioni precise e puntuali su questi prodotti. Grazie a tutti!